Salve a tutti ragazzi, oggi vi parlo di Didier Life 2 è un gioco per Playstation 2 che riguarda su queste lotte nelle arene, nei luoghi vari è un gioco vecchio, comunque è un gioco della Playstation 2 comunque io vi saluto, commentate, iscrivetevi, lasciate un like e noi ci vediamo con il prossimo video, ciao!